Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Ben ritrovati all'appuntamento col meteo di TV6, l'alta pressione inizia a perdere colpi, notiamo dei temporali al nord sul settore balcanico, proprio da qui aria più fresca, le medie-alte quote nei prossimi giorni che darà vita a un importante calo delle temperature e le quali si riporteranno addirittura sotto le medie del periodo dopo il lunghissimo periodo caldo che abbiamo vissuto nelle ultime settimane. Per quanto riguarda questo martedì, una giornata abbastanza instabile nei settori interni, quindi sulle colline, sulle montagne, sugli altipiani, possibilità di temporali anche piuttosto intensi, seppur isolati, qualche fenomeno sul terramano a bassa quota, anche nel vastese, ma i fenomeni più rilevanti riguarderanno i settori più interni, appunto la marsica, l'altosangro, la conca aquilana, più variabilità sulle coste dove si alterneranno annuvolamenti, sprazzi di sole e rari piovaschi, nulla di particolarmente rilevante sui settori costieri, le temperature in calo, questo è il dato più importante della giornata, massime tra i 28 e i 30 gradi. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni!